È vero che io mi sto innamorando piano piano di Padre Pio, perché non sono mai stata una sua devota, nel senso che non lo conoscevo tanto. Sono bolognese e in Emilia Romagna evidentemente, come dire, la sua immagine è un po' lontana era. Dopo che ho visto un film in televisione, mi sono molto, come dire, incuriosita di questo personaggio, di questo uomo, mi ha colpito la sua grande energia, il suo carisma. Il fatto di essere un uomo estremamente pragmatico e costruire qualche cosa che lui aveva sentito sulla sua pelle, quindi il dolore proprio fisico e volere per i malati delle cose straordinarie molto più, come dire, molto importanti, sia dal punto di vista medico che dal punto di vista logistico proprio e dal punto di vista rapporto umano da parte dei medici, degli infermieri. Quindi è riuscito a creare questa cosa straordinaria. Come sono arrivata a San Giovanni Rotondo io non lo so. Perché mi hanno telefonato dicendo se volevo essere la madrina di Teleradio Padre Pio. Ho detto io, insomma, non lo so. Va bene, comunque vengo. E sono venuta in questo giorno insieme a Sergio. E ho visto tutta questa organizzazione piccolina, ma molto potente, perché oggi in realtà basta avere un'antenna e una parabolica che si va in tutto il mondo. E ho conosciuto delle persone fantastiche. E sono i frati. Mi sono, come dire, mi sono sentita accolta da loro in un modo così normale, così semplice, che se mi scappa, non so, una parola sbagliata, mi guardano, mi dire, non ti preoccupare, non mi sono sentita impressionata davanti a dei giudici. Ecco, sono stata in mezzo degli amici e mi sono rimasti proprio nel cuore. Tant'è vero che nella notte che abbiamo appunto salutato e concluso questa apertura di questa stazione radiofonica, che diventerà una stazione anche televisiva grandissima, non per merito mio, ma perché Padre Pio da lassù qualcosa deve fare, anche lui, cioè deve proteggere il lavoro di tutti questi meravigliosi compagni che lui ha. E quella notte ho detto una cosa che veramente ho sentito molto forte. Ho visto un po' di Padre Pio in mezzo, in seno a tutti i fraticelli, ognuno a modo loro, parlo dei più giovani o di quelli anche così più, meno giovani, hanno veramente una spinta fortissima. Quindi vuol dire che lui ha regalato energia a tutti coloro i quali portano avanti la sua opera. Allora torno a Roma e vado a Raiuno per parlare di Carramba e dico, sentite, sa che mi piacerebbe fare uno special da Padre Pio? Sergio, molto contento, perché tra l'altro, voglio dire, lui si è proprio affezionato, passa più tempo qua, mi starà diventando un santuomo, che ne so. Sì, perché mette le telecamere nella nuova basilica, ha un rapporto con l'ordine, dove vai? Vado da Padre Pio, vado dai fraticelli, vado a San Giovanni Rotondo e sto sempre qua. Sono molto coinvolta lo stesso, quindi vuol dire che c'è un'energia molto particolare anche nelle persone di San Giovanni Rotondo. L'unica cosa che credo fermamente di Padre Pio, perché l'ho provata io personalmente, è che se tu preghi Padre Pio ne avrai un beneficio. Cioè non voglio parlare di miracoli, perché i miracoli sono qualcosa di, come dire, di straordinario che può capitare a una persona piuttosto che a un'altra. Ma veramente tutte le persone che ho incontrato, vi assicuro, di qualunque livello, di qualunque paese, hanno questa convinzione. Quindi significa che lui aveva un'energia. Come dicono i frati e come diceva anche lui, era Dio che gli dava tutto questo e lui era anche spaventato di tutta questa, come dire, di questa potenza che aveva in sé. Perché? Perché uno veramente non sa probabilmente qualche volta come gestirla, ma aveva delle indicazioni così precise che se tu lo preghi e lo senti vicino, comunque ti fa bene. Non domandatemi perché, ma io sono sicura che questo è proprio vero. È proprio vero. Sono sempre stata una donna profondamente spirituale e ho sempre pregato, ma nei momenti più strani della giornata. Calcolando la preghiera, io sono cattolica, non sono proprio praticante al massimo, però la preghiera io la posso dire, che ne so, in macchina, quando mi alzo, in qualunque momento. Ma da sempre questo, perché me lo insegnò mia nonna. Vengo da una terra molto pragmatica, che è l'Emilia Romagna, però voglio dire, la spiritualità non serve proprio, è un'altra cosa, capito? E quindi pregando a fondo, io sono convinta di mandare dell'energia buona nei confronti, che posso dire, di una persona che amo molto e che non c'è più, o nei confronti di qualcuno che ha bisogno, o anche per simpatia nei confronti di qualcuno che io non ho mai conosciuto. È una spinta interna. Venire a San Giovanni Rotondo, in teoria, non mi ha cambiato. Mi ha confermato, tutto sommato, quello che facevo naturalmente, senza pensare, che in fondo non era una strada poi così sbagliata. Io ho rivisitato di nuovo tutto il convento, tutta la chiesa, perché veramente volevo entrare di nuovo a San Giovanni Rotondo. E la cosa molto forte, che non è da dimenticare mai, è il lavoro che fanno questi 25 frati qua, che sembrano 250 milioni. E sono 25, capito? È una cosa impressionante. Tu vedi frati dappertutto, invece non è vero. Avranno il dono della bilocazione, come padre Pio, che ne so io. È bellissimo, è veramente straordinario, è veramente, sono formidabili. Quindi ti viene proprio, umanamente c'è un rapporto umano così forte che va al di là di tutto e quindi sono amici. Ecco, e quindi per amicizia tu devi ovviamente dare quello che senti. Io sento molto e quindi do tutto quello che posso, anche se sbaglio pazienza. Sanno che comunque sono in perfetta buona fede, questo poco mai sicuro.